Un saluto a tutti i campanari. Mi trovo a Nucetto in provincia di Cugno, alla chiesa di Santa Maria Maddalena. Oggi è domenica e ascolteremo i tre segni con il suppetto. Allora suonerà il primo segno alle 10, il secondo alle 10.15 e il terzo alle 10.30. A presto! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.